Ragazzi, buongiorno, ragazze, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Secondo me il gesto di Achille Lauro non è per nulla blasfemo e in questo video vorrei farne un piccolo elogio, o meglio vorrei elogiare il tentativo che fa Achille Lauro di voler attingere a una tradizione bimillenaria, quella cristiana, che è profondamente connessa con la nostra storia per prenderne ed estrarne un simbolo molto potente e attraverso quel simbolo voler comunicare. Lauro ha spiegato, voleva comunicare un nuovo inizio, un cambio di vita e per farlo ha preso un simbolo dalla tradizione cristiana che significa proprio quello. Secondo me non l'ha dissacrato, secondo me anzi l'ha valorizzato, ha valorizzato una tradizione ricchissima di simboli, di storia senza rimuoverla, come tanto spesso fa il nuovo conformismo borghese, il nuovo conformismo italiano, che il cristianesimo lo rimuove ma ne è profondamente influenzato e rende ciò che per la cultura perbenista borghese cattolica passata era trasgressivo il nuovo conformismo. E allora a quel punto i bravi ragazzi che prima pregavano nel nuovo conformismo devono essere trasgressivi. Perché l'elogio tra virgolette ovviamente di Lauro? Perché mi sembra che Achille Lauro con il gesto battesimale che pure ha suscitato tante polemiche, però cerchi di fare un passo in più della semplice rimozione della cultura cristiana. Mi sembra quello di Lauro un tentativo di rielaborarla. Lui d'altronde su Instagram ha spiegato il significato del gesto, vi linko qui un articolo di fanpage che ne parla. Era un omaggio alla madre, le madri sono esseri divini, dice Lauro citando indirettamente una delle scene più belle del corvo. Madre è l'altro nome di Dio sulla bocca e sui cuori di tutti i nostri figli. E poi ha spiegato in un altro post Achille Lauro, volevo trasmettere che per me questo è un nuovo inizio e l'ho fatto attraverso questo simbolo, questo simbolo potente. Se uno va a vedere cosa significasse il battesimo e cosa significa il battesimo nella cultura cristiana scopre una ricchezza ricca di due millenni e il battesimo era proprio un'immersione che simboleggiava la morte di un individuo vecchio, dell'uomo vecchio e una risurrezione come persona nuova, come creatura nuova e non era un'esperienza dogmatica, non era un'esperienza ritualistica, era un'esperienza esistenziale e il battesimo era un simbolo che esprimeva un'esperienza di vita. Quindi per concludere, se Achille Lauro comprende questo dimostrando profondità artistica e rigioca questo simbolo con questo significato del cambio di vita, di un'esperienza iniziatica, di morte di un uomo vecchio e rinascita di qualcosa di nuovo, a me sembra bello, evolutivo, mi sembra un passo avanti rispetto, ripeto, al nuovo conformismo. Nuovo conformismo al quale assistiamo quotidianamente da decenni e cioè, appunto, tutto ciò che era trasgressivo e sbagliato secondo il ben pensare dei decenni passati, oggi diventa status quo e questo comincia davvero a essere stucchevole, a fare ridere. Per questo mi sembra positivo da parte di Achille Lauro questo passo in avanti, questo cercare non più di rimuovere i simboli, la tradizione, la storia millenaria cristiana, ma questo tentativo di rielaborarla, rielaborarne i simboli e farne nuovo linguaggio, cioè reinserire la simbolica cristiana in un nuovo linguaggio. Non dico sia perfetto, non dico sia eccezionale, dico che mi sembra una bella trovata in un panorama artistico, anche a Sanremo, dove, diciamo, abbiamo tutti visto di meglio. Fatemi sapere la vostra nei commenti, se siete arrivati fin qui, grazie per aver visto il video. Se vi va, iscrivetevi a questo canale per restare connessi con i suoi contenuti, ai quali, per chi ha voglia, rimando con i prossimi video. Ciao a tutti e ciao a tutte.